Gli aggettivi possessivi maschili mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro miei, suoi, suoi, nostri, vostri, loro Gli aggettivi possessivi femminili mia, tua, sua, nostra, vostra, loro Le regole d'uso degli articoli davanti agli aggettivi possessivi sono davanti a loro, davanti ai nomi al plurale, davanti ai nomi di parentela al plurale o se il nome di parentela è usato con un aggettivo diminutivo davanti ai nomi di parentela accompagnati di un aggettivo davanti ai cognomi, nomi o soprannomi davanti ai nomi di persone conosciute davanti ai parole signor, signora, signorina davanti ai titoli In alcuni casi l'articolo non si usa e l'aggettivo possessivo si trova dopo il nome con le espressioni esclamative o vocative come amore mio o figlio mio con alcuni espressioni come è colpa tua da parte mia a casa mia per merito nostro o sole, o sole mio stai da fronte a te stai da fronte a te stai da fronte a te ed il mio bacio scioglierai la silenzio ed infamica a te stai da fronte a te stai da fronte a te stai da fronte a te piaccia stai da fronte a te stai da fronte a te